Io sono Gabri Costa, ora qui nell'Upper West Side dobbiamo fare subito la seconda proprietà di Amered, un'altra base nemica. Dobbiamo eseguire 15 schivate perfette e bloccare 20 nemici al muro con la ragnatela. Volevo dirvi che questo è il contenuto aggiuntivo DLC di Marvel's Spider-Man con il titolo La città che non dorme mai e questo è il secondo episodio, Territori Contesi. Queste proprietà di Amered vanno fatte, questa è la seconda che facciamo e più che altro il secondo video che facciamo. Dobbiamo completare le 6 ondate? Non so se ce la faremo, è un compito impossibile ma ci proveremo. Abbiamo completato la prima ondata e adesso siamo subito alla seconda ondata. Sembra che stiamo cominciando bene. Ricordatevi che Spider-Man ferma i criminali e salva gli abitanti di New York in continuazione. Eccoci alla terza ondata, però bisogna fare attenzione perché questi qui sono armati e hanno dei lanciamissili. e la cosa che mi fa nervosire è che sono arrivati questi olafrusta. Questo olafrusta riesce a schivare tutti i colpi. Questi con i bazooka che sparano i missili mi danno fastidio. Li vado a sistemare subito. Quarta ondata Te hai rotto le scatole con queste fruste schifose. Quando saltano con gli scudi lasciano l'elettricità. Ricordatevi che una volta sconfitti tutti gli sgherri di Amered saranno tutti in arresto e saranno tutti in galera. Continuano ad arrivare e non finiscono più. Vi faccio ricordare che completando la proprietà di Amered si vincono gettoni. Siamo arrivati alla quinta ondata. Stiamo andando benissimo. Non bisogna mollare. Eccoli questi ciccioni grossi. Questi sgherri grossi. Mi tocca fermarli o ne lancia ragnatele. Venite qua sgherri che vi do una bella lezione di sistema tutti. Ti hai rotto con questi missili che spari nel tuo bazooka. Ecco l'ondata finale. Finalmente ci siamo. È arrivata l'ondata finale. Questi sono gli ultimi sgherri che affronterò. Gli ultimi. E poi dopo di questi non arrivano più. ce la stiamo facendo ragazzi. Noi dobbiamo mettercela tutta. Oh ma questi non i bazooka. Mi stanno facendo perdere la pazienza. E non capisco perché. Quando ci sono degli sgherri armati la mia pazienza ha un limite. bene. Questi sono gli ultimi due. Non arrivano più. Finalmente ce l'abbiamo fatta. È finita. Che peccato che l'abbiano ridotto così. Questo posto non è male. Direi che il video si può concludere. Grazie per avermi seguito. Ora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto condividetelo. E mettete un mi piace come sempre. Fateci sapere cosa ne pensate del video nei commenti qui sotto. Grazie per avermi seguito.